Il nostro direttore Marco Zeni per un saluto, c'è il lavoro di tanti volontari dietro e ringrazio in particolare tutti i colleghi della radio e del giornale, oltre che tutti i volontari del festival e degli enti coinvolti. A nome di Vita Trentina, della redazione, dei grafici e dell'amministrazione, c'è anche presente il nostro amministratore delegato, l'ingegnere Crepaldi, do il benvenuto e ringrazio soprattutto tutti i presenti. I nostri salvanelli, piccoli salvanelli, hanno parlato di sorriso da portare in tutto il mondo. Io credo che in questo momento il sorriso si deve trasformare in atti concreti di solidarietà nei confronti delle popolazioni disastrate del Nepal. Credo che il Trentino si stia muovendo in questa direzione e con il sorriso arrivino degli aiuti che sono fondamentali in questa prima fase di emergenza, ma ovviamente la solidarietà dovrà poi continuare. Dico, questa è l'undicesima edizione, fra i giornalisti praticamente c'è un detto, la cartina di Tornasole per un'iniziativa sono i sette anni, è una data ormai scaduta per i matrimoni, gli si indicava per il matrimonio ma sappiamo che i fallimenti nei matrimoni sono addirittura molto molto più anticipati. I sette anni per questa iniziativa il Parco dei Mestieri resiste con un appello, con un messaggio che è strategico da chi l'ha posto, Parco dei Mestieri, mai come in questa fase è un logo importante. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri vecchi che hanno imparato, attuato, insegnato questo mestiere, escano dal loro cruccio di una crisi che perdure, delle quali non vediamo soluzione per dare dei messaggi concreti a questi ragazzini, ai giovani, per insegnare come loro sono usciti dalle crisi del passato. Basta piangersi addosso, bisogna incominciare a tutti i livelli ad essere non tanto maestri ma testimoni di una speranza che è fondamentale per ritornare ad essere persone senza bisogno di piangere ma soprattutto senza bisogno di continuare a lamentarsi. Io credo che Vita Trentina, il Festival della Montagna, tutti i soggetti che in questo momento sono presenti, sono tanti, in questo manifesto è veramente una lingua comune, un messaggio comune. Grazie a tutti. Grazie al nostro direttore per averci ricordato anche la vicinanza con il Nepal. Ciao! Ciao! Ciao!